Prefetto di Caserta, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Proveditore regionale, Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, Toressa Palmieri, ma soprattutto la comunità, comunità delle carceri. Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte. Venire qui oggi significa guardare da vicino, di persona, per iniziare a capire. Quel che abbiamo visto nei giorni scorsi ha scosso nel profondo la coscienza degli italiani e, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della Polizia Penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere. Queste sono immagini di oltre un anno fa. Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato.